Buonasera a tutti, siamo qui nelle quinte virtuali dell'evento musicale a cui avete appena assistito, che ha avuto come nome tutelare la ditta Tecno Futuro, come avete intuito fin dai titoli di testa di questo evento stesso. Tecno Futuro che è uno dei più importanti, più rappresentativi distributori di apparecchi ad alta fedeltà e che vede in Mauro Battilana il patron e deus ex macchina, usate il termine che preferite, il grande capo. E allora Mauro, buonasera. Buonasera. Raccontaci un po' di questa tua Tecno Futuro e soprattutto delle macchine che piacciono ai nostri amati clienti e amici. È nata per distribuire prodotti di alta tecnologia e tutta tecnologia destinata all'ascolto della musica. La passione è quella, da tanti anni e nel momento di questa attività ho selezionato i marchi con cui poi sviluppo l'attività. Uno dei più importanti, perché rappresenta un po' la storia dell'iFi, si chiama Luxman. Luxman è un marchio nato nel 1925, quindi è uno dei più storici dell'alta fedeltà. Nasce in Giappone e nasce con la passione giapponese, quindi perfezione a tutti i livelli, nella costruzione dell'oggetto e nella riproduzione del suono che dovrà poi giungere alle orecchie di chi ascolta. Sono molto fiero di vendere un marchio come questo, perché nell'ambito di quello che è un po' il panorama dei prodotti destinati all'alta fedeltà, è quello un po' più conservatore, se vogliamo definirlo in questi termini. Quindi ha dei canoni che risalgono alla nascita e alla passione che i giapponesi hanno sempre messo nella precisione e nel suono e credo che chiunque abbia avuto modo di ascoltare un prodotto Luxman sappia di cosa parlo. Quindi parliamo assolutamente di pulizia, di perfezione, di qualcosa che sicuramente va di pari passo con quello che è il concerto che Velutluna dà. Quindi tutti i suoni debbono colpire l'immaginario di chi ascolta. Che sia orchestra o che sia prodotto, destinato a riprodurlo, sicuramente questa è emozione. Certamente. Noi trasmettiamo emozioni. Certamente. Il concetto di emozione infatti si sposa anche al concetto di eleganza del suono, perché Luxman sicuramente ha proprio il blasone dei grandi marchi che appunto non riesco a trovare un termine migliore che eleganza per descriverne i contenuti. Quindi perfezione tecnica, ma anche eleganza, nobiltà, blasone del suono. Ci sono anche dei diffusori che so che voi proponete e che sono anche questi diffusori storici di marca inglese, la Warfidel, la mitica Warfidel. Vuoi dirci qualcosa di questi? Sì, Warfidel insieme a Luxman è un po' parte della storia dell'iFi. Warfidel è nata nel 1932, è il marchio più antico per le casse acustiche inglesi e ha dettato scuola. Ha una serie di prodotti che sono almeno 30 anni, che continuano a essere visti con lo stesso nome, si chiamano Diamond, quella serie di casse acustiche. che hanno fatto una scuola, una scuola tipicamente inglese, diffusori piccoli, destinati quindi ad ambienti intimi, definiamoli così, che hanno proprio veramente rappresentato l'essenza della musica in casa. Warfidel fa una serie di prodotti, non solo questi, mi faccio un esempio delle ultime linee che si chiamano Evo e Elysian, che sono dotate di tecnologie estremamente elevate dal punto di vista realizzativo degli oggetti. Ovviamente il fine ultimo è sempre uno solo, la qualità della musica. Ecco, infine c'è un altro prodotto che, adesso forse sbaglio, ma mi pare che tu abbia acquisito da non molto, sempre inglese, sempre blasonatissimo e che i nostri spettatori hanno visto nel corso del concerto, perché è stato un po' un elemento, è brutto dirlo, ma insomma in questo caso un elemento di arredo, di nobile arredo del set, del concerto, che è l'amplificazione Leak. Sì, Leak, sempre inglese, sempre un marchio che ha rappresentato nella storia dell'i-fi dei punti fermi, perché è stato il primo amplificatore a valvole ad avere una distorsione con lo 0.1, a quei tempi la distorsione si faceva al 2, al 3%, ed è stata anche la prima azienda a creare l'amplificatore a transistor. La prima azienda al mondo a fare un amplificatore a transistor è stata Leak. Stiamo parlando sempre degli anni 60-70. Leak è ritornata perché era sparita, aveva chiuso i battenti verso la fine degli anni 70, ed è stata ripresa, ed è stata riportata alla luce quest'anno, grazie alla proprietà che si chiama International Audio Group, Yag, che non a caso ha anche la proprietaria di Warfidel, la proprietaria di Luxman, quindi un'azienda assolutamente dedita all'i-fi. e Leak è una bellissima sorpresa perché stiamo parlando di quello che è un po' la novità, che poi non è una grande novità, è il ritorno al vintage, quindi tutti i prodotti sono destinati a colpire l'immaginario di chi li utilizza, anche facendolo un po' ritornare, fargli un passo indietro nella storia per vedere prodotti che, diciamo fino a 5-6 anni fa, sarebbero stati considerati vetusti assolutamente fuori dalle logiche del mercato. Ebbene, questo ritorno è fortissimo, poi grazie anche questo è dovuto soprattutto al Giradischi, che ha un po' rivitalizzato quello che è il nostro mondo. Bene, come sempre abbiamo sforato i tempi che avevamo previsto, ma quando si parla della nostra passione risulta abbastanza inevitabile lasciarsi andare anche all'entusiasmo. Approfitto concludendo, anche per rivolgere un ringraziamento al comune amico Giorgio Levorato della ditta Petterson, che ha fatto da tramite nel portare in questi giorni complicati di lockdown ed intorni, appunto all'attrezzatura Leak e anche un suo monitor level che abbiamo avuto occasione di vedere, così en passant. E niente, ti saluto, ti ringrazio ancora per questa tua sempre straordinaria attenzione al mondo della musica e il fatto che tu oggi abbia voluto così essere patron e sponsor, usiamo anche queste parole anglofone del nostro evento, ne è un'ulteriore riprova. Grazie ancora del tuo lavoro. Grazie a te, grazie a voi e buona musica!